Ciao a tutti ragazzi, sto facendo questo video per parlarmi da solo, me lo voglio spiegare, mi voglio spiegare delle cose e ho fatto un video, così me le spiego, poi lo riguardo e me le spiego, che può costare più o meno a secondo del tier, ma questi poi sono altri discorsi, quindi non li faccio e rifaccio il video. Che cos'è sostienimi e guadagna? Sostienimi e guadagna è l'opportunità di sostenermi guadagnando, se no la richiamo nato, sostienimi e guadagno, giusto? Ho perso l'acqua calda. Ciao a tutti ragazzi, se l'attivate utilizzando il mio referral code, dà a voi la possibilità di avere 10 euro di bonus, capito? Punto, fatelo, non rompete, eh, su, eh, scusa eh, stiamo qui, eh, faccio hype, fate, via, guadagniamo tutti, siamo tutti contenti, guadagnate, e basta. Ciao a tutti ragazzi, o sto, arrivederci. Per me è un'opportunità grandissima di, ehm, capito? Cioè, vi sembra una cosa stupida a voi, ma invece è proprio così, eh? Se voi acquistate, ehm, nei negozi convenzionati con hype, che sono tutti riportati in un'applicazione per, nell'applicazione, ciao, arrivederci, stato bello. E potete decidere anche di sospendere la carta invece di bloccarla definitivamente, tante volte pensaste che qualcuno, ehm... Haip può essere attivata attraverso tre diversi... ... Uno, base, che è gratuito. Un intermedio che ha un costo di circa un euro, non circa, che ha un costo preciso proprio. Cioè non è che è circa. Quindi che dire Se volete farmi altre domande Quindi che dire Sto c***o Voi mi dite Venite in live E mi dite Sto c***o E poi uscite Non dovete mettere neanche il follow Voi entrate Hashtag Sto c***o E poi uscite Grazie a questi buoni Io ovviamente Non farò altro che implementare Ma perché? Te devi dire solo le cose che sono scritte qua davanti Te le sei scritte apposta Perché devi di cose che non c'entrano nulla con quello? Di le cose che sono lì Sennò che c***o l'hai scritto a fare? Cretaino Potete farmi donazioni Potete donarmi vizio Potete scrivermi Potete fare una ciao